La musica è l'unica lingua internazionale, l'unica lingua in cui uno non ha bisogno di spiegare. E mio padre mi disse, cosa vuoi fare tu nella vita? E io disse, papà, voglio fare il batterista. Molte sono le caratteristiche che accomunano rhapsodie in blu alla tradizione occidentale. Fine music, good music, non bisogna essere spiegata. Perché Gershwin ci piace moltissimo? Perché c'è una libertà di espressione, un senso di protagonismo individuale. Chiamai io e gli ho detto, mi scusi, volevo sapere Cacciola, se è così così. Ah, Cacciola, sì sì, ho detto, lei ha ammesso. Ho chiamato 22 volte perché non ci credevo. Il desiderio e il talento di Bernstein nel divulgare la grande musica hanno riscontro nel componimento forse più famoso del compositore stesso, è West Side Story. Il pubblico all'interno del mondo comprendono e amo questa musica. È il migliore abbastanza della lingua musicale americana che conosco. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.